let's go benvenuti lupetti in questo nuovo video di spettamenti di carte pokemon oggi andremo ad aprire la mini team di pokemon go quella dedicata a ivy ieri ricordo che abbiamo spacchettato la mini team di pokemon go dedicata pikachu ma come pikachu ivy non è da solo perché c'è anche meltdown in ogni team insieme a un pokemon quindi snorlax magikarp brisei e ivy pikachu sono sempre insieme a meltdown quindi molto carina come cosa e vediamo un po leggiamo come sempre dietro in questa collezione pokemon go troverai due buste di espansore pokemon go una moneta del design ispirata un po una poche moneta una carta illustrazione del pokemon qua quindi ivy vediamo un po se riesco ad aprirla o che la moneta deve essere sempre uguale quindi sempre pikachu io sinceramente questa cosa non è che mi piace tanto io se l'avessi fatta io queste team avrei messo magari la moneta del della del pokemon affigato qua quindi ivy più che melmeta però se avessero voluto fare una moneta con ivy e melmeta non serve sta brutta come cosa allora qua abbiamo due bustine qua abbiamo i codicini per il pokemon go quindi vediamo un po mettiamo via i codici qua mettiamo via 1 e 2 mettiamo magari la team a buona vista in bella vista se riesco a chiuderla perché ok perfetto mettiamola qua qua come sempre abbiamo le custo le buste positive del folletto che tra poco sicuramente dovrò andare a comprare altre quindi magari sceglieremo un altro colore non mi serve rispetto prendere delle buste positive rosate sul rosa se le hanno quindi vediamo un po ci manca veramente ricordo pochissime carte a trovare soprattutto solo quelle speciali perché le comuni ci manca solo forse la reverse di venusaur altrimenti abbiamo trovato tutto forse di reverse evo di diolo scusate ci manca però alcune carte reverse quello si iphone e ci manca ancora da trovare la versione di ditto e non posso dire e spin a raccove sono editto spin a venusaur oro perfetto subito via perché erano la versione reverse ne avevamo ben due io stavo cercando la versione oro che ne ho più in collezione perché ho due collezioni pokemon go dove una tenuta reverse e una dove tenute le carte normali e rare insieme alle oro quindi benissimo adesso anche molto dentro alle buste positive le carte oro reverse e tutte le altre poi speciali e tengo sempre entro le buste positive adesso ok dai che magari siamo fortunati allora silvio non ce l'avevamo già come carta reverse forse anche più di una volta io sinceramente spero visto abbiamo ancora un bel po di pacchetti da aprire riuscire a trovare qualcosa anche perché mi sarebbe molto piaciuto almeno non finirla almeno trovare ancora un bel po di carte speciale magari in qualche viastro o addirittura magari qualche gold ma non credo di riuscire allora abbiamo una v dietro quindi meltan ivy pikachu squirtor spin a la casper mentre non sia di nuovo quel pokemon lato non mi ricordo come cavolo si chiamava l'arvita allora conger durvi allora io vado subito a controllare se ci avevamo già quindi cardes un attimo che lo appo nel frattempo la mettiamo via non mi cosa c'eravamo già sta carta forse no quindi abbiamo già trovato una v forse che ci manca vediamo un po fa tempo che carica l'app io metto via le carte ok perfetto quindi pokemon go mostra tutto e e tipo cos'è è un po ok e ci mancava perfetto assegno anche assegno anche che abbiamo trovata qui ci manco i due dei 18 carte perfetto almeno che troviamo un tanto qualcosa perché credo che allora in questi mini team non credo di trovare chissà che sinceramente quindi anche perché ricordo che ci mancano solo più da spacchettare per ancora tre mini team una team pokeball megaball nel senso non la megaball non la pokeball poi abbiamo ancora la collezione premium dragonite mi sembra e poi se riuscivo ma non credo io spero di riuscire a portare verrà l'ultima collezioni pokemon che poi ci mancherebbe a portare sul canale sarebbe quella di new to che sinceramente spero riuscire a portare ma fino ad adesso io vi posso dire che vi posso aspettare domani con la collezione della mini team di snorlax fine ci vediamo domani ciao